Ha deciso di farla finita gettandosi dall'ultimo piano della Torre di Archimede del Dipartimento di Matematica dell'Università in Via Trieste. Un dipendente dell'Ateneo Padovano è stato ritrovato privo di vita intorno a mezzogiorno nell'androne del Palazzo Universitario. La vittima è un 57enne tecnico informatico presso un altro dipartimento universitario. Già nel 2017 aveva tentato il suicidio cercando di buttarsi dal Palazzo del Bo, questa volta non ha lasciato nessun biglietto d'addio. Sul posto è intervenuta la polizia e i medici del suo, ma che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Il magistrato di turno non ha disposto accertamenti sul corpo e ha dato nulla osta perché la salma venga restituita alla famiglia che vive fuori regione. Il cordoglio dell'università con una nota del rettore Rosario Rizzuto che esprime le condoglianze alla famiglia. L'attore di Archimede nel complesso di matematica dedicato allo scienziato Tullio Levi Civita purtroppo è già tristemente nota per essere teatro di suicidi. A gennaio del 2021 infatti sempre lanciandosi dall'ultimo piano si tolse la vita a un professore di scuola superiore. Vi ricordiamo che sono sempre attive linee di ascolto SOS suicidi con numeri verdi a cui rispondono persone che possono dare un sostegno in un momento di difficoltà.